Nuovo colpo duro al Parco Nazionale d'Abruzzo e alla comunità dei suoi orsi. Qui, nel territorio di Scanno, poche ore fa, è stato rinvenuto un orso privo di vita. L'orso è stato rinvenuto da alcuni escursionisti che hanno allertato le autorità. Immediatamente sono quindi intervenuti sul posto il nucleo Carabinieri Forestali di Sulmona e lo stesso direttore del parco, oltre che vari tecnici e veterinari. L'animale rinvenuto a terra è un orso maschio, adulto, di circa 10 anni, la cui morte dovrebbe risalire a meno di 24 ore fa. L'ennesimo duro colpo, appunto, ad una comunità di orsi, quella del Parco Nazionale d'Abruzzo, che già conta un numero esiguo di esemplari, stimati in circa 50 unità. Resta ora da comprendere il motivo della morte. Da informazioni provenienti da fonti certe ed affidabili, in esclusiva per Rete8, sappiamo che gli inquirenti hanno quasi del tutto escluso l'ipotesi dell'avvelenamento, mentre resta in piedi l'ipotesi dell'uccisione a colpi di arma da fuoco o la possibilità di decesso a seguito di una competizione tra orsi. Nei pressi del luogo del rinvenimento del cadavere dell'orso, infatti, sono stati trovati alcuni ciuffi di pelo, segni tipici di lotte fra orsi nel periodo degli amori. Il pensiero torna quindi a quel 31 agosto del 2023, quando l'orsa marena venne uccisa a colpi di arma da fuoco nel comune di San Benedetto dei Marsi. Occhi puntati quindi agli esiti degli esami medici che verranno eseguiti nella giornata di domani presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentare di Teramo e presso la Clinica Veterinaria dell'Università. Lo scopo sarà quello di rinvenire l'eventuale presenza di frammenti di proiettile all'interno del corpo dell'animale. Raffaele Bisegna per Rete8, Parco Nazionale d'Abruzzo.